Musica La rassegna di mattino 6, martedì 28 gennaio, buongiorno. Oggi sui quotidiani nazionali continuano le analisi dopo i voti regionali di Calabria ed Emilia-Romagna, mentre in Abruzzo una giornata molto importante perché il gestore dell'A14 Autostrade per l'Italia chiederà, inoltrerà una nuova istanza di dissequestro alla procura di Avellino, dopo che ha assicurato di mettere gli inclinometri per verificare la stabilità dei viadotti, anche se rimane il nodo delle barriere di sicurezza, dei guardrail. La procura di Avellino avrà l'ultima parola per decidere il dissequestro e quindi la sorte della viabilità abruzzese. Allora andiamo proprio in Abruzzo sulla prima pagina pescarese del centro. In titolo d'apertura la cronaca, arrestato impiegato delle poste originario di Pianella, avrebbe rubato 5 mila euro a due pensionati. Nella colonna di sinistra la questione viabilità, caos a 14, oggi il gestore chiede il dissequestro per quanto riguarda il viadotto del Cerrano. A Pescara, a Viale Marconi, a Tre Corsie, il piano va avanti. Nel taglio alto la politica nazionale, governo Zingaretti alza il prezzo, dopo le regionali il segretario del PD chiede nuovi equilibri a Palazzo Chigi. Mentre Zennaro, il deputato dei 5 Stelle, Movimento 5 Stelle e Centrosinistra insieme alle comunali. Nella fotonotizia Dio Assum, ambasciatore di Pescara e nel mondo, i funerali dell'artista pescarese. Andiamo avanti con la prima pagina di Chieti, di Lanciano e di Vasto. Scegli il tuo sindaco, l'iniziativa in edicola per le comunali, ma la fotonotizia, Chieti, cerimonia in prefettura. I giovani ricordano la tragedia dell'olocausto, ieri era la giornata della memoria, c'è anche spazio per lo sport, il calcio di serie D, Vastese, Amelia ha i titoli di coda, oggi arriva il tecnico Silva, un avvicendamento sulla panchina della Vastese. Intanto la procura fa ripartire la Sevel, attessa via libera dal PM, ma resta sotto sequestro l'area della lastratura. Andiamo avanti sulla prima pagina di Teramo, autostrade, ripartire, riaprite il viadotto ai Tir. Caso del Cerrano, oggi riparte la nuova istanza al giudice di Avellino, perché è soprattutto la costa teramana ad aver subito questo problema. Italia Viva saluta gli altri gruppi, ci hanno isolati, dicono dal comune di Teramo e ancora a Tortoreto, il PM dice no a riaprire il caso di Giulia. La fotonotizia, anche qui riguarda le celebrazioni della giornata della memoria, della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Vediamo una manifestazione dell'Ampi, Teramo ricorda chi si oppose all'orrore del nazismo. Andiamo avanti sulla prima pagina dell'Aquila di Avezzano e di Sulmona. Centro turistico, stipendi a rischio all'Aquila, annuncio dell'amministratore, gasolio rubato, non ci sono i soldi. Ancora all'Aquila, la cronaca, prete scambiato per amante, è stato picchiato da un marito geloso. Avezzano perde 200 abitanti ma è multietnica, sono gli ultimi dati dal censimento. E ancora la fotonotizia, medaglie ai familiari dei deportati nei lager nazisti. Cerimoni in tutte le province. A Sulmona, la crisi in comune, nuova giunta politica. Casini si gioca la salvezza dopo le dimissioni di altri due assessori. Andiamo sulla prima pagina del messaggero. Caos in autostrada, ok al piano, via libera da prefettura e denti locali, alle misure di sicurezza per il viadotto del Cerrano. Adesso la procura di Avellino dovrà decidere sul sequestro che spacca in due l'Abruzzo, ma anche l'Italia. Perché la dorsella adriatica è una delle più importanti per quanto riguarda la viabilità da nord a sud e viceversa. Giulia Nova, consorzio balneari, attestato all'auto del presidente Flagnani. Nel taglio alto, il dolore, il folla, l'addio del grande artista Franco Summa. Ancora si rovescia il piatto, bimbo di 16 mesi uscionato dalla minestrina. Il calcio di serie B, pescara trattativa in stand by per il ritorno di Melchiorri. E intanto la cronaca, il bizzarro caso all'Aquila aggredisce il parroco, pensava fosse l'amante della moglie. Il sacerdote inseguito con l'auto è picchiato, i carabinieri sulle tracce del coniuge geloso. Granzasso rubato il gasolio per far muovere i gatti delle nevi. Intanto la fotonotizia a proposito del coronavirus in Cina. C'è anche uno studente pescarese che non può lasciare il paese. Lorenzo blindato nel campus. Il racconto del ragazzo in quarantena. Operaio morto, riparte la Sevel dopo il tragico incidente di inizio anno. La città, il quotidiano della provincia di Teramo, conto alla rovescia per la nuova giunta. Ieri la cena conviviale a Notaresco senza il vice sindaco uscente Maria Cristini Marroni. Intanto anche qui la fotonotizia dedicata alle commemorazioni della giornata della memoria. Non dimentichiamo l'orrore e l'appello che ci si augura sempre il 27 gennaio. Caosina 14, decisione sul viadotto entro il fine settimana e il tempo in cui si dovrebbe esprimere la procura di Avellino. Colonnella, nuovo sciopero dell'ATR per gli stipendi. Roseto, lavori per il dissesto al via in autunno. A Teramo, Cozzi boccia il piano delle isole ecologiche e anche i 5 Stelle criticano il centrodestra. Valle Castellana, parco nazionale a fianco del territorio. E allora usciamo dai quotidiani nazionali, andiamo su quelli di caratura nazionale a partire dal Corriere della Sera. Governo, il PD chiede la fase 2. Dopo il voto Salvini tira dritto, rifare tutto, compreso la citofonata. Berlusconi e Meloni rilanciano il centrodestra unito. Zingaretti, alleanza elettorale con il Movimento 5 Stelle. Conte, asse progressista. Lo stop di crimi non si cambia. Intanto, morra presidente dell'antimafia. Non ho votato i 5 Stelle. E passate democratici due grillini su tre pare. Che appunto, secondo il Corriere della Sera, gli elettori dei 5 Stelle sarebbero stati dirottati. Principalmente verso il PD. Intanto, la fotonotizia è dedicata al campione di basket Kobe Bryant e a sua figlia. L'elicottero si è scantato a 300 chilometri all'ora. Kobe e Gianna traditi dalla nebbia. America sotto shock. Un paese in lutto. Avevano lui 41 e lei 13 anni. Quei migranti reclutati come soldati. Il reportage da Tripoli dei migranti che arrivano in Libia. E spesso sono anche costretti a combattere la guerra civile. L'economista Zuboff, big data, ecco le regole che servono. Andiamo avanti sulla Repubblica. Spalanchiamo il PD, ha detto l'ex presidente del Consiglio Prodi. Il padre dell'Ulivo, basta con il partito delle tessere aprire a Sardine società civile. Zingaretti ora la fase 2. Il premier guarda avanti. Serve un fronte contro le destre. Il crollo dei 5 Stelle inasbrisce lo scontro nel movimento. Taglio dei parlamentari. Il referendum ci sarà il 29 di marzo. Intanto la questione appunto della celebrazione della giornata della memoria. Shoah, la memoria di Auschwitz nei volti dei salvati. La fotonotizia è dedicata all'epidemia in Cina, virus cinese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, alto rischio globale. Aumenta il livello d'emergenza mondiale. Oltre 2.800 i casi riscontrati. La paura fa calare anche le borse. Il fatto quotidiano. Ecco perché Salvini ha perso. Ed agosto che non ne azzecca una, secondo il fatto. I flussi elettorali. L'Emilia Romagna ritorna al 2010. Salvini perde punti sulle europee. Il PD vince con Sardine e 5 Stelle disgiunti. Gli errori del capo dalla folle crisi del papete alla citofonata. Viene sconfitto al pilastro e persino a Bibiano. Infatti a Bibiano primo partito è stato il partito democratico. La guerra dei social. Borgonzoni ha speso di più. Ma Bonaccini ha vinto su Facebook per coinvolgimento dei suoi follower. Intanto Max Bugani intervista il fatto. Noi 5 Stelle spaccati in tre. Ora decidiamo se restare insieme dopo le dimissioni del leader. Luigi Di Maio. Ma non solo l'Emilia, anche la Calabria. Dove ha vinto la candidata di Forza Italia. Il masochismo dei calabresi resuscita Tajani. Che infatti è il numero 2 di Forza Italia. Dopo le regionali, le Sardine lanciano la campagna del sud. Si parte dalla cultura. L'OMS nel pallone. Controordine. L'epinemia è grave. Parrebbe a proposito di coronavirus. In America impeachment. Bolton inguai a Trump. Ingerenze su Biden e a Kiev. Il giornale Equilibri in tilt. Cambia il governo. Il PD batte cassa ai 5 Stelle. Ridiscutere tutto. E Conte vuole fare il capo del nuovo ulivo. Berlusconi si vince se si è liberali. Stelle cadenti. Grillini muti sul crollo. Se questo è un leader. Intanto l'intervista a Tajani. Via il reddito. E l'assistenzialismo. A proposito. L'attacco ovviamente alla misura del reddito di cittadinanza. Virus cinese. Elevato il rischio globale. L'OMS cambia idea sulla pandemia. Il caso Cazzaniga. Morti in corsia. Ergastolo. All'ex primario. Il bestiario delle regole sugli animali. Novità a Milano. Andiamo avanti sul mattino. Il quotidiano di Napoli. Dal governo alla campagna. Il PD alza il tiro. Con i 5 Stelle. I democratici. Dopo le miglia Equilibri cambiati. Alleanze lite nel movimento. Si rafforza la candidatura a bis di De Luca. E perde quota all'ipotesi. Costa. De Luca il governatore uscente della campagna. Uno su tre. Con Bonaccini tra gli elettori dei Grillini. Decisivo il voto disgiunto. Quello attraverso il quale si è potuto votare un governatore. Ma il partito che non lo esprimeva. Caldoro. Necchiari ed uniti da PD. 5 Stelle. Intese sottobanco. Il ministro a Napoli. Manfredi. Scossa l'università. Assumiamo 1600 ricercatori. Ha promesso il ministro. L'OMS ci ripensa. L'abbiamo visto. Virus. Il rischio è elevato e globale. L'allarme contagio a Wuhan. Sono già 44 mila. Mentre la grinta di Gattuso. Dopo la vittoria sulla Juve. Nel quotidiano di Roma. Il manifesto Piazza Grande. Citando Lucio Dalla. Respinta dal modello Emiliano. L'onda nera della destra. Nel day after del voto. Modena torna nella piazza delle Sardine. Questa volta Bonaccini. Modenese doc. festeggia la vittoria che le è stata consegnata anche dal voto disgiunto di gran parte dei 5 Stelle. Ancora lo slalom di Conte tra PD e 5 Stelle. Il giorno dopo il voto si apre la partita della maggioranza di governo. La spallata mancata del turbo populista a proposito del giudizio dopo le elezioni regionali. Ma le fratture sociali rimangono. Allora vediamo le analisi sul manifesto. Elezioni, alleanze e provenzano. Il ministro per il Sud. Un PD aperto come l'Emilia. Fortini rossi resistono ma sono assediati dalla destra. Infatti, benché abbia perso, comunque il risultato della Lega è stato eccezionale in Emilia. Sardine. Da sole non bastiamo. Appuntamento a Scampia. Pericolo scampato. Ma ora si cambia o si muore? Zingaretti. Mano tesa ai 5 Stelle per le prossime regionali. Frediani dei 5 Stelle. Stati generali. Confronto vero. Intanto il coronavirus in Cina. Il premier a Wuhan. L'OMS. Alto rischio. Andiamo avanti sul messaggero. Conte. L'offerta al PD. Spacca il Movimento 5 Stelle. Il premier dopo l'Emilia. Ora un fronte antidestra. Zingaretti. Garanzie. Noi non subalterni. Grillini fuori dalla Calabria. Salvini sconfitto. Riparto da Roma. Referendum si vota il 29 di marzo. I flussi elettorali. 5 Stelle. Uno su tre. Vota Bonaccini. Coalizioni vicine. Pseudoscienza. Ora liberateci dalle profezie. dei sondaggi. Infatti fino al sabato. Fino alle prime ore della domenica. Il giorno del voto. I sondaggisti erano pressoché concordi sul fatto che la Borgonzoni fosse in terza. Mentre dalle 8 della mattina. I sondaggi sono cambiati in maniera opposta. E questa è una curiosità da dietro le quinte. Fuga dal Campidoglio. Anche il posto fisso ha perso il suo fascino. Un assunto su cinque. Rifiuta il contratto. Pesa la burocrazia lenta. 450 disdette dal 2018. Vertice con i sindacati. Cantiere pensioni. Quota 100. Ora in bilico. Andiamo in Cina. Virus a rischio globale. Allarme OMS. Un charter per evacuare gli italiani dalla Cina. Intanto un caso sospetto anche in Africa. Aereo CIA abbattuto dai talebani. Afghanistan. Mistero sui vertici a bordo. USA verifiche in corso. Mentre torniamo sulla cronaca italiana. Desiree uccisa. Era ancora bimba. Il medico legale in aula. Lo stupro prima della morte. Il chirurgo soffriranno. Avvelenò di 12 pazienti. L'angelo della morte. Andrà all'ergastolo. Continua ogni tanto a rispuntare sulle cronache. Prepotentemente la questione bioetica. Andiamo sul libero. Uno scenario assurdo. Titola il quotidiano di Vittorio Feltri. 5 stelle. Morto ma resta al governo. Grillini sotterrati alle regionali. Tuttavia hanno il 30% del Parlamento. Ed è per questo che rimangono al governo. Per questo inchiodano alla sedia e tengono in ostaggio gli italiani. Ma i voti locali non mettono in discussione il governo nazionale secondo la procedura. L'editoriale di Vittorio Feltri. Sembra che il PD abbia vinto la guerra mondiale. Mentre ha solo resistito in Emilia dove era anche un pochino scontato. Calma a dire che Salvini ha sbagliato secondo Libero. Il centrodestra a Meloni cresce più di chiunque. Infatti è cresciuto sia in Emilia che in Calabria. L'orgoglio del becchino. Crimi felice di custodire la salma del Movimento 5 Stelle. Crimi è colui che è subentrato a Di Maio. Siamo sempre più incavolati eppure la rabbia ci fa bene. Chi si imbestialisce è tenace. Vitale è determinato l'articolo di Barbuto. Buona TV a tutti. Senza i talent non esisterebbe il festival. Ha detto Maurizio Costanzo che di TV se ne intende. Il virus cinese è pericoloso per la salute e per il portafogli. Perché anche le borse sono in discesa. Il sole 24 ore a proposito di borse. Ecco il quotidiano economico finanziario che appunto ci racconta l'impatto del virus sui mercati. Che sono sotto pressione. Timori della frenata di Pechino. Materie prime a picco. Petrolio sotto i 59 dollari. Male le borse. Milano a meno 2,3%. In Europa bruciati 208 miliardi di capitalizzazione. Ora il rischio mondiale sale a livello elevato secondo l'OMS. In sei risposte quanto serve per capire il coronavirus. Vabbè il sole 24 ore ci spiega cosa sta accadendo in Cina. Intanto in Italia la giornata della memoria. Mattarella basta colpi di spugna sul fascismo. L'odio va debellato. Pensioni quota 100 ridimensionata. Resta da sciogliere il nodo giustizia. Dopo il voto regionale Conte cerca il rilancio e apre la fase 2. Catalfo per le pensioni riforma strutturale. Ancora da risolvere aspi e prescrizione. Incognita 5 stelle dopo il crollo. Infatti mettere nel dubbio il governo sarebbe anche mettere nel dubbio la revoca delle concessioni ad autostrade. Che tocca da vicino anche l'Abruzzo. Bill Gates prepariamoci alle pandemie. L'allarme arriva anche dal magnate di Microsoft. Alta velocità liberalizzata. Nuove tratte in Europa. Andiamo avanti sulla stampa. Il PD a Conte. Ora cambiamo agenda. Parla il capogruppo del Rio. Alla Camera. I decreti di sicurezza vanno cancellati. Priorità lavoro, famiglia e lotta all'evasione. Prime frizioni nell'esecutivo dopo le regionali in Emilia Romagna. Il Premier a Franceschini. No a rivendicazioni contro il Movimento 5 Stelle. E allora leggiamo i commenti dei leader di partito dopo le elezioni. Zingaretti freni la deriva a filo 5 stelle. Ha detto Matteo Renzi. Giorgia Meloni. La citofonata è stata un errore. Io l'avrei evitata. Ha detto il leader di Fratelli d'Italia. Mentre Salvini se l'è rivendicata. Giancarlo Giorgetti. Il numero due della Lega. Sono le città. Il punto debole della Lega. Cancelleri. Il tripolarismo non è morto. Ritorneremo. Ha detto il 5 stelle. E intanto Grillini in fuma. Premiano destra e sinistra. Perché ovviamente la scomparsa dei Grillini va a vantaggio delle due forze del bipolarismo. Kobe Bryant. L'elicottero della tragedia non doveva volare. Bibiano esulta. Così abbiamo punito Salvini. Infatti lì la Lega ha perso nel collegio di Bibiano. Le opinioni. Capitano solo contro tutti. Ha già annoiato gli italiani. L'Unione Europea ora si aspetta la riduzione del debito. Andiamo avanti sul tempo. Il quotidiano di Roma. La foto è con la vignetta di Osho. Che te ridi? Dice Conte a Zingaretti. Sto a pensare alla faccia del Buonafede. Quando gli faremo saltà la prescrizione. Buonafede il ministro della giustizia. Miracoli del Viagra Emiliano. Zingaretti sul ring contro il 5 stelle. Il PD vuole approfittare della mazzata grillina per fare il bello e il cattivo tempo al governo. La strategia? Agitare lo spettro del voto per far ingoiare ai 5 stelle qualunque cosa. Infatti dai numeri delle regionali si presume che i 5 stelle siano gli ultimi ora che vogliano andare al voto. Intanto il virus cinese fa paura. Il contagio rischia di diventare globale. Mobilitazione modello 48. La paura dell'uomo nero ha svegliato l'armata rossa. Intanto a proposito del virus cinese. Mercati nel panico. L'epidemia arriva in borsa. Listini giù in tutto il mondo. Resa dei conti nel centro-destra. Gli alleati non perdonano. Parte il processo a Salvini. Il secolo di storace. Prima l'Italia con il PD in foto. Zingaretti vuole comandare ma vuole accedere ai suoi alleati incattiviti su proporzionale giustizia. In primo piano l'esploi di Fratelli d'Italia, una comunità che cresce in Emilia-Romagna. Cosa ha sbagliato Salvini? La sconfitta è figlia sua all'attacco al leader della Lega da parte del quotidiano Filo Meloni. Legislatura non l'ischia, ma Conte ora è nei guai. La verità di Maurizio Belpietro. Conte si prepara al terzo governo e strizza l'occhio a Forza Italia. Lo scampato pericolo in Emilia-Romagna, spacciato per vittoria strepitosa. Il crollo dei Cinque Stelle spingono Zingaretti a inneggiare al bipolarismo. E subito Giuseppe si tuffa. Il leader leghista è stato indegno. Lavora un ampio fronte dove riunire chiunque voglia contrastare queste destre. Il PD avverte i grillini. L'asse politico si è spostato. Ora Conte potrebbe fare una lista tutta sua. Maggioranza dagli immigrati alla giustizia tra i giallorossi e resa di conti. Fratelli Coltelli nel centro-destra c'è Chiride per la sconfitta di Salvini. Rappresentanza del primo partito, ora è l'ultimo. Caro Mattarella c'è un problema. Palazzo Chigi regge meglio per tutti tranne che per gli italiani. Paese sacrificato. Bonaccini, arroganza e concretezza. Il nuovo eroe dei democratici. Sardine, i pesciolini saltano sul carro e adesso battono cassa. E questa è la panoramica della verità. sul voto. Bryant, la star orgogliosa di essere cattolica, la verità tra tutto, sceglie di ricordarne la fede. Il mondo piange, il campione è l'uomo. Lezioni della storia, anche il grande Montanelli cadde nella banalità del male. Forse si riferisce alla guerra in Abissinia e allo stupro di una quattordicenne. Il secolo XIX, governo, ora il PD in calza, il Movimento 5 Stelle, Orlando candidato unico in Liguria, fibrillazioni nell'esecutivo dopo il voto in Emilia. Romagna, Conte a Franceschini, non rivendicazioni contro i grillini. Il vice segretario, cambio di linea sulla giustizia. dentro il 10 febbraio, il nome dello sfidante di Toti, Rix, è il presidente Ligure. La regione viene prima dei piani nazionali. La replica, concentrato sul territorio. Kobe Bryant, America in lutto. L'elicottero non doveva volare. A sei, il viadotto riprende forma. Ecco il nuovo impalcato sulla Savona Torino, dopo il crollo di un viadotto. Il virus spaventa l'economia e le borse perdono 208 miliardi, una cifra da capogiro. Avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica. Riecco il bipolarismo. Il PD si rafforza, spese dell'alleato, e punta a discutere gli equilibri di maggioranza. Conte, il leader della Lega, lo sconfitto. Il centrosinistra di Bonaccini batte Salvini a Bologna. Il governo più saldo, ma 5 stelle ai minimi. In Calabria, il centrodestra conquista la sua tredicesima regione. 5 stelle fuori dal Consiglio regionale. Il 29 marzo il referendum sul taglio dei parlamentari. Mattarella, virus del razzismo da debellare. Ecco perché l'odio alla fine non vincerà l'ottimismo dell'avvenire. Il mondo brucia, oltre l'Australia, dagli USA all'Indonesia. Allarme globale. Intanto, sulle navi 500 naufraghi e la Libia ora lancia gli SOS. Bloccati in attesa di un porto sicuro, anche 152 minori non accompagnati. Una questione che continua ad essere drammatica, benché ogni tanto scompaia dalle cronache. Virus Cina, l'OMS alza il livello dell'allarme. Ma adesso usciamo dai quotidiani nazionali, dalla cronaca di livello nazionale, dopo aver letto la prima pagina dell'avvenire. Vediamo le previsioni del tempo per questo martedì e subito dopo andremo in Abruzzo. A tra poco. Martedì 28 gennaio, seconda parte della nostra rassegna stampa con Mattino 6, tutta dedicata all'Abruzzo. Il voto alle regionali, ovviamente non in Abruzzo, che però ha avuto impatto sulla politica nazionale, ha avuto impatto anche sulla politica locale. Vediamo le reazioni. Zennaro, De Cinque Stelle, deputato nei comuni e in regione, sì a un'alleanza Cinque Stelle centrosinistra. Leggiamo sulle pagine del centro. Zennaro lancia la proposta e chiede l'istituzione di un tavolo per discutere forme e nodi. Dobbiamo trovare un'intesa sui temi e sul movimento dice deve strutturarsi di più sul territorio. Legnini invece, il PD ora apra a civici e movimenti, le reazioni in Abruzzo, del voto in Emilia, Romagna e Calabria. Deramo della Lega, comunque noi avanziamo e ancora le altre reazioni. Pagano, deputato di Forza Italia, Iole Santelli ha dimostrato serietà, coerenza e grande impegno in Calabria. Marsilio, il centrodestra unito, ha vinto in Calabria perché è un progetto chiaro per gli elettori. Paolucci invece del PD. Gli emiliani hanno dato un calcio alla cultura dell'odio e delle false notizie. Andiamo avanti sulla questione viabilità. A 14 il gestore dal giudice per chiedere il dissequestro. Oggi al Tribunale di Avellino il piano di monitoraggio del viadotto del Cerrano prevede il posizionamento di sensori alla base di piloni per sorvegliare la frana. Ma vi ricordo rimane il nodo delle barriere a cui Autostrade non ha fatto una manutenzione adeguata e quindi se verrà riaperto probabilmente verrà riaperto ad un'unica corsia. Europa, la riforma della PAC spaventa gli agricoltori. E ancora Marsilio riceve i cristiani ortodossi. In Abruzzo la comunità è composta da circa 22 mila fedeli romeni. Sono stati incontrati dal leader abruzzese di un partito di ispirazione cattolica. Trasporti ospedali e clima. Il consiglio torna a Pescara, convocata oggi nel capoluogo adriatico, la prima sessione invernale dell'assise. Il consiglio regionale a Pescara. E a proposito il vicepresidente del consiglio regionale Pettinari. Esenzioni per le malattie rare da campi elettrici. Il consigliere alla regione. A Pescara, nuova via dei Marconi a tre corsie. Il comune va avanti con il piano del nuovo aspetto del centro di Pescara. Lega e Fratelli d'Italia chiedono modifiche ma l'assessore Mascia avverte. Rischiamo di perdere i finanziamenti perché si elimineranno anche 96 posti auto. La FIAB mancano le ciclabili nella proposta del comune. Bimbo di un mese morto nel sonno. Solo l'autopsia rivelerà la verità. La procura vuole fare chiarezza sulla scomparsa del piccolo. Le prime ipotesi, la sindrome del decesso inculla un rigurgito che avrebbe soffocato il neonato. Capo dei vigili, stretta finale per la scelta. Oggi Mascia incontra i 13 candidati tra la mattina e il pomeriggio. Palestini e Cichella restano tra i favoriti. Finora è Palestini. Danilo, il capo della polizia municipale pescarese, picchia la prostituta dopo il rapporto in casa a Viale Marconi. Lui, 32 anni, si riprende i soldi. Le chiama la polizia arrestato ma il giudice lo scarcera. L'appello è sempre lo stesso, quello di non finanziare il mercato dello sfruttamento che è la prostituzione. Via Alpi, il palazzo bomba sociale, 130 stranieri senza luce, gas e acqua. Decine le multe ai proprietari. Summa i colori dell'addio, nelle rose bianche e rosse. In 300 hanno salutato l'artista, Masci è stato un ambasciatore di Pescara nel mondo. La nipote voleva la porta del mare nell'area di Risulta. L'ambiente S.P.A. si indagati in guerra a proposito dei rifiuti. La replica all'assessore, Cisle, Will e UGL contro Del Trecco. Operai malati per turni pesanti. Volta, arriva Pepper, il robot che inaugura la scuola del futuro. Presentato il Future Lab, spazio dedicato all'innovazione. Taglio del nastro dei laboratori con il vice ministro Ascani che si è recato a Pescara. Volta per inaugurare questo Future Lab. E allora andiamo a scoprire insieme che cos'è questo Future Lab che ci spalanca le porte di questo nuovo decennio nel nostro servizio. Il vice ministro dell'istruzione oggi a Pescara per visitare alcune scuole, per vedere anche cosa si fa in queste scuole anche all'avanguardia del nostro paese. Per segnare il fatto che non c'è nessun futuro senza memoria. Qui inauguriamo uno spazio del futuro, per il futuro dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, ma il giorno della memoria. Il giorno in cui si ricorda che quello che è stato è stato per una ragione, perché non sia più bisogno che i nostri ragazzi siano consapevoli. Quindi un giorno importante per essere qui. Un giorno importante, il giorno della memoria oggi è importante, soprattutto per i giovani, far sì che non si dimentichi quello che è accaduto. Che non sia un ricordo solo freddo di avvenimenti distanti, non sono distanti, sono incisi sulla nostra pelle e perché la memoria sia condivisa bisogna che si parta dai ragazzi e dalle ragazze, dal fatto che conoscano quello che è stato, appunto perché non accada più. Poche ore fa ci sono state le elezioni in Emilia-Romagna, è arrivato un risultato entusiasmante, possiamo dire così, per il Partito Democratico e per il centro-sinistra, un suo commento. Beh, diciamo che il fatto che sono senza voce dopo la nottata che abbiamo passato non è un caso. Scherzi a parte, siamo molto soddisfatti, ha vinto la buona politica, ha vinto il linguaggio delle persone concrete, abbiamo battuto il linguaggio dell'odio di chi vuole dividere e incattivire il paese. È un punto di partenza e io credo che di qui in avanti molte cose cambieranno. Salvini si può battere, Salvini è stato battuto. Cosa può cambiare questo risultato in chiave positiva anche per il governo? Soprattutto l'agenda. Secondo me noi dobbiamo cominciare a rimettere al centro i temi fondamentali che interessano al paese, naturalmente lo dico con un po' di conflitto di interessi, prima di tutto la scuola. Credo che questo risultato cambierà soprattutto l'agenda di governo. Andiamo ora a Montesilvano sulle pagine del centro con la cronaca. Violenza sessuale chiesti i quattro anni per l'ex dirigente comunale Costantino Di Donato accusato di aver abusato nel suo ufficio di una donna in cerca di lavoro. Il fatto risale al 2016 quando intervennero il sindaco Maragno e i vigili urbani, sentenza il 25 febbraio. Se fosse così come l'accusa sostiene, ancora più terribile questa cosa perché approfitta dell'esigenza di chi cerca lavoro. Segue il marito fino a casa dell'amante e la polizia evita la rissa a San Buceto. Lei sospettava da mesi che lui la tradisse e domenica l'ha pedinato e scoperto e ha chiamato i parenti. Vandali nel parco della Libertà Montesilvano, mentre a Città Sant'Angelo gli alunni sul parco ricordano le vittime dell'olocausto. Fibrosicistica, il piccolo Rick canta per finanziare la ricerca. Andiamo a Francavilla, multe per la velocità. Nelle casse comunali entrano 200 mila euro. Nel 2019 16 mila sono stati i verbali. Operaio precipitato dal tetto, due indagati per la sua morte. A tocco da Casauri, un'altra morte sul lavoro. Era un 26enne caduto da 12 metri. Ora l'area dell'ex Merker è ancora sotto sequestro, lì dove è precipitato smantellando un capannone. Liliana Segre è cittadina di Penne. Per riconoscimento alla senatrice, il Consiglio proclama anche la baby sindaco. Ieri, giornata della memoria, Liliana Segre, senatrice a vita, sopravvissuta all'orrore di Auschwitz, ha ricevuto numerose cittadinanze onorarie che molte hanno suscitato anche polemiche. Ricordo quella di Verona in primis. Da ieri è anche cittadina onoraria di Penne. Allora, vediamo nel servizio. Con ferita da parte del Consiglio comunale di Penne, in occasione della giornata della memoria, la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita, Liliana Segre, ritenuta dal gruppo di centrosinistra Pennevale, emblema di pace e di cultura, nonché vigile sentinella contro tutte le forme di discriminazione, ingiustizia, odio, violenza e indifferenza. Intanto ringrazio tutti i gruppi consigliari che insieme a me hanno condiviso questa nostra richiesta, perché promossa già da novembre scorso abbiamo pensato proprio di condividerla in questa giornata particolare, il 27 di gennaio, giornata della memoria, istituita già da qualche anno, quindi ci fa particolarmente onore ed è stato anche emozionante averlo condiviso soprattutto con le scuole. Tanti comuni l'hanno già fatto in passato, noi oggi l'abbiamo voluto fare in questa giornata particolare, sono particolarmente fiero per aver fatto noi la richiesta, per averla fatta condividere anche a tutto il Consiglio comunale. A questo punto tutta la città di Penne ne può essere onorata. La cittadinanza votata all'unanimità dall'intera assise comunale è in linea con il dettato dello statuto comunale di Penne che ripudia ogni forma di discriminazione, odio e violenza. Infatti per questo alla città di Penne nel 2006 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile per le sofferenze, le distruzioni e le vittime provocate dall'ultimo conflitto mondiale. Quando una cosa si dimentica si rischia di ripeterla, in questo caso si ripeterebbe un grave errore che è stato quello di eliminare persone che tra l'altro erano persone inermi. Noi siamo fieri di aver dato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre perché è veramente un monumento, un pilastro di quegli eventi drammatici che non dobbiamo e non possiamo dimenticare. Andiamo a Chieti, arrestato, impiegato delle poste, rubava soldi dagli anziani, aveva architettato un sistema per prelevare le pensioni, le vittime sono due fratelli, l'arma è lanciata dalla direttrice, l'accusa è quella di peculato. Passeggio per strada in mutande è stato bloccato a Guardia Grele e anche nonostante il clima invernale in mutande in strada. Serve la procura a far ripartire l'impianto da Tessa, via Libera, la produzione a pieno regime nella fabbrica del Ducato ma resta sotto sequestro l'area dell'arrastratura, lì dove è morto a inizio anno un giovanissimo. Spaccio oggi dal giudice Tre Famiglie Rom a Vasto, Piano Antenne, la team fa causa al comune di Chieti per il regolamento che evita il 5G vicino alle scuole perché non è ancora chiaro cosa dica la scienza a proposito degli eventuali danni per la salute. A Teramo Italia Viva verso l'addio, Luzi siamo stati isolati, il consigliere accusa la nostra attività ha dato fastidio e suscitato invidie. Nella giunta a 9 un assessore sarà designato direttamente dal sindiaco. Andiamo avanti, l'università ha due nuovi corsi di laurea, a Teramo si tratta di scienze gastronomiche e biotecnologie avanzate. A Pineto i proprietari delle case fermate la posa dei massi, così è inutile la lettera al comune e regione di un'amministratrice di condomini. I lavori di messa in sicurezza di piste ciclabili e abitazioni non garantiscono il risultato, bisogna realizzare una balaustra. Si parla ovviamente dell'emergenza erosione che pochi mesi fa ha devastato la costa. Silvi nel degrado il parcheggio vicino alla pista ciclabile. Andiamo avanti all'Aquila. Prete scambiato per amante e picchiato. Il vice parroco di Pettino è stato ferito dopo una colluttazione con un uomo che lo insegue con l'auto e lo blocca in strada. Disavventura per l'economo della diocesi, costretto a consegnare il telefonino in cerca di indizi compromettenti. Il responsabile rischia una denuncia per rapina. Un bizzarro fatto di cronaca che fortunatamente si è risolto senza nessuna grave conseguenza. Ma andiamo a scoprire come il vice parroco è stato scambiato per l'amante della moglie. Vediamo. Una brutta disavventura per il vice parroco di Pettino della parrocchia di San Francesco d'Assisi, Pino del Vecchio. 40 minuti di terrore per il giovane vice parroco. Il sacerdote, che è economo diocesano della curia aquilana, è stato sequestrato, picchiato e aggredito da uno sconosciuto che più volte lo ha minacciato di morte prima di riuscire a fuggire e denunciare l'accaduto ai carabinieri, che però lo avrebbero già identificato anche grazie alla targa fornita dal vice parroco. Sarebbe un uomo di Fontetio. Alla base del gesto, la convinzione da parte dell'uomo che il sacerdote, molto conosciuto e stimato, fosse l'amante della moglie, tant'è che lo aveva pure accusato di essere appena uscito dalla sua casa. I militari stanno indagando per verificare tutto il racconto. Fatti gravi che si sono verificati ieri sera intorno alle 19, fuori dal centro abitato del comune di Fontecchia, una trentina di chilometri dall'Aquila. Il vice parroco stava raggiungendo i frati nel convento di San Francesco che lo attendevano e con la macchina stava procedendo in direzione Castelvecchio-Subequeo, quando è stato prima affiancato da un altro auto e poi costretto a fermarsi e scendere da un uomo in evidente stato di alterazione. Lo avrebbe accusato sostanzialmente di essere l'amante della moglie e di essere appena uscito dalla sua abitazione. Don Pino ha pure provato a dire che si trattava di uno scambio di persona, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo gli ha tolto il cellulare, controllato minuziosamente e poi lo avrebbe preso a pugni. Il parroco, dopo 40 minuti, è riuscito a liberarsi e a riprendere il telefono e così è riuscito ad allertare i carabinieri della stazione di Fontecchio e il 118 a sporto regolare e denuncia ai carabinieri di Sulmona e gli sono state curate le ferite in ospedale giudicabili in 5 giorni. Nessuno però con le auto vedendo la scena si è fermato. Di nuovo il studio sulle pagine del messaggero. Pronto il dossier salvacerrano, gli enti locali danno il velibere al documento di Aspi, dovrà convincere ora la procura a revocare il sequestro. Ponte monitorato da sensori in grado di bloccare il traffico in caso che le oscillazioni mettano a rischio l'infrastruttura. Intanto a Bussi si riunisce la commissione preseduta da Lennini. Andiamo avanti il taglio basso, i commenti sui voti regionali. A proposito di Lennini lo abbiamo evocato che ha detto Bonaccini come noi. Marsiglia invece commenta soltanto la Calabria dove il centrodestra ha vinto. Mentre la pezzopane del PD vinciamo quando siamo uniti, i berardini del 5 Stelle, più attenzione a livello regionale. Il polo riformista contro il sovranismo di Nicola Calenda e Calenda con D'Alessandro, più Europa e Carbone a sostegno della proposta lanciata dal leader di Italia Viva. A Pescara il sogno e i segni, il lungo addio a Franco Summa alla Basilica di San Cetteo. Lorenzo, tempi lunghi per il rientro. Abbiamo visto lo studente in quarantena a Wuhan in Cina a causa del coronavirus. Un piccolo aiuto, scrive il pescarese su Twitter, è la mensa nella quale possiamo consumare i pasti senza allontanarci. Abbiamo visto anche il fatto di cronaca, rapina, escort, in manette un uomo. Bimbo di 16 mesi si ustiona con la pastina e ancora così la chiesa contrastò l'olocausto, storici e arcivescovo a confronto per vedere responsabilità o meno nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Sesso violento in ufficio, rischia oltre 4 anni il dirigente licenziato. Le requisitorie del PM al processo contro Costantino Di Donato, molestia odiosa. La vittima è credibile. Auguri di morte a due docenti, scoppia il caso al liceo classico, una questione che tiene banco all'interno del liceo di Pescara. L'Aquila, Belvedere, il Ponte Unrepus, saranno i cittadini a decidere. Botte al prete, scambiato per l'amante della moglie. Abbiamo appena visto il servizio. Andiamo rapidamente a Celano. Immacolata interrogazione al Sindaco. Due consiglieri della Lega vogliono sapere quali sono le iniziative relative alla vendita della casa di cura. Chieti, no antenne vicino a scuole e ospedali. La team fa ricorso. In campo anche il WWF che si è schierato dalla parte del comune per evitare che le antenne siano vicine le scuole. La Sevel riparte dopo l'incidente che è costato la vita a un ragazzo. Riprende la produzione di furgoni Ducato dopo quattro settimane di cassa integrazione per 700 operai. A Teramo, il comune, basta consultazioni, democratici in difesa di Mistichelli. Case di riposo, pochi posti per entrare anche quattro mesi. Attentato all'imprenditore Flagnani. Nella notte i gnoti fanno esplodere due petardi sulla Range Rover. Cofano e parabrezza danneggiati. Qualcuno aveva preso di mira anche lo stabilimento Altamarea da lui gestito sul lungomare monumentale. Prima di approfondire lo sport andiamo rapidamente sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Ancora la questione dell'acquifero del Gran Sasso. Caso Gran Sasso in Brasile e Slovenia. Il Forum H2O è stato invitato a partecipare in Brasile alla marcia internazionale delle associazioni ambientaliste. Il Forum H2O è uno di quelli che si è sempre speso in prima linea appunto per informare a proposito della condizione dell'acquifero. Pescara aggredisce rapina una escort 32enne arrestato dalla polizia ma aggredisce rapina una donna prima di tutto che una escort. Andiamo a Teramo. La nuova squadra pronta in poche ore. Nella cena conviviale di ieri sera a Notaresco si è fatta notare l'assenza di Maria Cristini Marroni. Verso rilancia l'idea di un tavolo in cui si sedano tutte le forze del centrodestra. Cozzi boccia il piano delle isole ecologiche. Ancora Sciclub di Teramo costretto a emigrare. Dopo 63 anni vanno a Campo Felice. In ricordo di Palatucci Rossi e Alberto Pepe anche la città di Teramo ha celebrato il giorno della memoria con il pensiero rivolto alle vittime della Shoah. Andiamo a Colonnella, stipendi ancora fermi, sciopero all'ATR. I sindacati, l'azienda al momento non ha comunicato una data ipotetica per il pagamento degli stipendi. E allora siamo in dirittura d'arrivo, andiamo subito sullo sport a partire da quello nazionale sui quotidiani italiani. La gazzetta dello sport in primis, scossa Ericsson, corsa a scudetto, entusiasmo a Milano per il suo arrivo. A centropagina la maglia dei Lakers di Kobe Bryant, l'addio al campione morto in elicottero ha commosso il mondo. Gallinari, il mio Kobe, il racconto esclusivo di un'amicizia, l'unico vero idolo che brividi quando ha voluto conoscermi. Torniamo sul calcio, l'allarme è Sarri, dal tridente alla mentalità, la Juve resta un'incompiuta. E ancora la Coppa Italia, Piatek Belotti, tutta la rabbia di Milan-Torino. Il corriere dello sport, chiamatemi Golazzo, Ericsson infiamma già il popolo interista, un pochettino gli diede questo soprannome per la bellezza dei suoi gol. Anche qui l'attenzione a Kobe Bryant, il mondo lo piange, il supereroe amato dai supereroi, lacrime di un'America sgomenta e del mondo intero. E la casa dei suoi Lakers diventa la piazza del dolore. Intanto il Milan è chiamato a decidere il futuro di Mazzarri Coppa Italia a San Siro. Tutto sport, Kobe, dolore e leggende. Il sindaco di Reggio Emilia vuole dedicargli una piazza, il ricordo di Alessia Pierattini, sua amica d'infanzia. Ronaldo, Juve, adesso sveglia. Belotti e Sirigu, salvate il Toro. Napoli, capolavoro gattuso secondo Vittorio Feltri. Ma adesso approfondiamo lo sport che più ci tocca da vicino, a partire da quello di Serie B, il Pescara. Secondo il centro, ritorno di fiamma per Sottil. Se l'attaccante esterno lascia Firenze potrebbe giocare di nuovo in Biancazzurro. Castrati va a Trapani e Ciofani invece al Bari. Da domani si lavora al mattino per pranzo a Lec Hotel. Mentre Braglia lunedì si giocherà la panchina, Cosenza chiamato alla riscossa dopo la terza sconfitta di fila. Il posticipo Cosmi può sorridere, Melchior rifirma il successo del Perugia. Perugia 1, Livorno 0. La Serie C, il Teramo fuori casa a ruolino da playoff. 9 punti conquistati lontano dal Bonolis. Mercato, giovedì la società andrà a Milano in cerca di occasioni. Last minute, il basket di Serie B. Chieti cerca conferme a Faenze. Teramo caccia a caccia del riscatto. Lo sci giovanile a Roccaraso brillano canzoni di Stefano e Cirricione. Il pugilato, 22 febbraio a Chieti. Il teatino Cavallucci torna sul ring, parte la scalata. Il titolo europeo, la Serie D, la stessa Amelia è finita, in panchina arriva Silva. I bianconorsi hanno l'accordo con l'ex Ascoli. Chieti Climateso nello spogliatoio a Giulianova. Via Castiglia ha preso le noci. L'eccellenza, Castelnuovo adesso punta da record. La promozione, Naccarella, Mister Fair Play, lo rifanei in gol con un avversario a terra. Il tecnico ordina di far segnare l'1 a 1 per pareggiare il fair play, il gesto di sportività dai campi della promozione. Andiamo sul messaggero. Sempre lo sport. Pescara, Melchiorri ancora in stand-by. Perugia non cede. Chiede 600 mila euro. Sebastiani ci proverà nelle ultime ore. Si tratta con Puccino, ma ora manca l'intesa. Sull'ingaggio del difensore, del grosso rigenerato, per il Delfino mi butto nel fuoco, addirittura ha detto il biancazzurro. Malagò premia la promessa Caputo, assieme ad Alessandro riconoscimenti a Stefano Paone e Riccardo Bergamini, apripista della disciplina. Stiamo parlando ovviamente della kickbox. Il Terramo scivola al settimo posto. Ieri il controsorpasso da parte del Cananzaro. Adesso si nasfrisce la conquista del posto playoff. Attacco asfittico lontano dal Bonolis. Intanto la Serie D, Giulianova neguai dopo i quattro pareggi. Pineto invece zona playoff obiettivo stagionale. Il notaresco stavolta si è sentita l'assenza di Sanzovini. Comunque rimane al primo posto della classifica di Serie D. Fortino Sieco che vale tutto il secondo posto per quanto riguarda il volley. Ancora la Serie D. Lavezzano con Brunetti e Patania. Difesa migliorata. Vastese, Via Melia, Silva, nuovo allenatore. Chieti la svolta tecnica non ha dato i suoi frutti. Le altre sport. L'equitazione. L'Abruzzo si fa onore nella categoria Endurance. Il basket Roseto Naufraga all'Overtime sfuma una vittoria decisiva. Andiamo ora sulla città a vedere come questa ci racconta lo sport. Andiamo rapidamente alle pagine sportive. Ecco qui in primo piano la Serie C. Teramo l'attaccante ma non solo. Tra oggi e domani dovrebbe essere definita la cessione di Martignago. Sguardo anche in Serie D. Nel mirino ci sono Diarra del 99 e Diachite classe 2000. Nella fotonotizia intanto Martignago che potrebbe presto lasciare la casa del diavolo. Il basket la Teramo a spicchi regola anche il basket. Silvi. I biancorossi si impongono per 72 a 56. Coach Stirpe una bella vittoria. Ora testa alta per Pescara. Il volley. La Blue Italy chiude l'andata con il sorriso. La formazione pinetese Blinders. Secondo posto in classifica battendo per 3 a 2 la San Pres. Nova Volley di Loreto. Il basket. Lions Teramo conquista la prima vittoria del 2020. I biancorossi battono il putignano e agganciano Palermo sul gradino intermedio del podio. L'atletica. Giorgia Tereschi veloce sui 60 metri. 7 e 73. E allora con questo risultato concludiamo la rassegna stampa di questo martedì 28 gennaio. Vi ringrazio per aver iniziato la giornata con noi e vi ricordo che l'informazione come tutti i giorni torna alle ore 14 con il TG6. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.